La Prefettura Nissena ha avviato un dialogo con i comuni di Caltanissette e San Cataldo finalizzata l'elaborazione di un protocollo d'intesa per il coinvolgimento in attività di volontariato dei migranti richiedenti asilo, iniziativa che si inquadra, si legge in una nota, nell'ambito dell'ampia disponibilità all'accoglienza e della significativa apertura all'integrazione da sempre mostrata dalle comunità delle due cittadine nei confronti degli stranieri presenti sul territorio. La firma del documento d'intesa avverrà domani giovedì 1 febbraio alle 10 in Prefettura, alla presenza del Prefetto Maria Teresa Cucinotta, del Sindaco Nisseno Giovanni Ruvolo e di quello sancataldese Giampiero Modaffari.